Quante volte avete perso un file per sbaglio oppure perché Windows fa i suoi scherzi? E' possibile rimediarli? Questi file vengono completamente eliminati o c'è una possibilità di recupero? Prima di iniziare il vero tutorial per recuperare i file voglio premettere un concetto. Forse non lo sapete ma quando cancellate un file su Windows, anche se il file si trova già nel cestino, questo potrebbe essere ancora facilmente recuperato. L'importante infatti è che il file in questione non sia stato sovrascritto da qualche altro file. Questo accade perché il file eliminato non viene cancellato per davvero ma piuttosto il sistema operativo marca lo spazio occupato da quel file come sovrascrivibile in maniera tale da poter riutilizzare lo spazio occupato da quel file al fine di poter memorizzare altri file. Scusate la ripetizione di parole. Quindi prima che il file in questione venga effettivamente sovrascritto, in teoria sarebbe ancora possibile recuperarlo mediante appositi software di recupero. Ed ecco che può iniziare il tutorial. Data Recovery Wizard, un programma di ECS, permette di recuperare con facilità ogni tipo di file, che sia un documento Word, un film, una canzone, tutto quello che supporta il sistema operativo. Perciò andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto facciamo una prova. Ho messo una pennina nel PC con dentro un file PDF. Eliminiamo il file e successivamente proviamo col software a recuperarlo. Per iniziare, scaricate l'installer dal sito ufficiale lasciato in descrizione. Avviamo il setup, analizziamo il contratto di licenza e successivamente accettiamolo. Qui ci verrà mostrato un avviso importante. Se si desidera recuperare il file nella memoria del PC, è sconsigliato installare il programma sull'hard disk stesso. Quindi toccherà installarlo su un'altra periferica di memorizzazione. Altrimenti, nel mio caso, visto che devo recuperare un file nella pennina USB, posso fare installare in automatico il programma sulla memoria del PC. Andiamo avanti nelle diverse schermate che ci saranno mostrate ed infine attendiamo la fine dell'installazione. Decidiamo se avviare subito Data Recovery ed inoltre se attivare la telemetria. Cliccando su Completa, verremo indirizzati sulla classica pagina di complimenti per aver installato correttamente il software. Qui possiamo notare le differenti versioni acquistabili, con le relative funzionalità. Ed ecco che si avvia il nostro software. Nella schermata principale avremo la lista delle periferiche di memorizzazione installate e collegate al PC. Possiamo inoltre scegliere una specifica cartella, ma in questo caso siamo sicuri che il file eliminato si trovava lì. Per continuare la mia prova di recupero seleziono naturalmente la pennina. In automatico verrà avviata una scansione veloce. Nel frattempo viene avviata anche un'analisi profonda in modo tale che il software ricerca file più vecchi e più difficili da recuperare. Per facilitarci nel recuperare il file abbiamo un filtro per selezionare le varie tipologie di estensione. Abbiamo a disposizione anche un filtro avanzato dove potremo impostare parametri precisi secondo le esigenze. Se il nostro file è presente nella scansione veloce possiamo fermare quella approfondita in modo da risparmiare risorse. Una volta selezionato il file da ripristinare ci verrà mostrata, se possibile, un'anteprima. Per il recupero ci servirà una licenza valida per il programma. Una volta immessa scegliamo dove salvare il file recuperato, in questo caso scelgo la pennina. Prima di uscire dalla scansione il programma ci notifica se vogliamo salvare la scansione stessa o meno. Ed ecco che ho il file recuperato, uguale a come lo avevo lasciato. Bene, per questo argomento è tutto. Per ulteriori informazioni leggete la descrizione. Vi consiglio poi di provare anche altri software EasyUS che possono risultare davvero utili. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.